cari amici bentornati sul mio canale youtube oggi 24 maggio in occasione della giornata mondiale del fai da te che si tiene ogni anno vi parlo di un progetto dal nome the amazing making of non so se l'ho pronunciato giusto un progetto supportato da manomano.it che vi ricordo essere un grande marketplace che opera nel settore del fai da te del giardinaggio del bricolage e anche dell'edilizia ha aperto un concorso rivolto a voi makers quindi a tutti quelli che vogliono operare nel mondo del fai da te the amazing making of infatti è un progetto per dare visibilità ai quei progetti un po bizzarri a quei progetti immaginabili a quei progetti che a volte possono sembrare irrealizzabili anche per motivi economici finanziando appunto questi progetti insomma il cosiddetto progetto incredibile il cosiddetto progetto pazzo come che mano mano sosterra questi progetti in due modi uno quello più importante economicamente e il 2 quello che ne segue perché se c'è l'economia e se c'è il progetto ma non c'è la visibilità non ce ne facciamo niente al progetto dove mano mano stesso racconterà la storia di questo progetto candidato e possibilmente anche vingitore come potete vedere o qui o qui scorrono le immagini del progetto che ha vinto l'anno scorso quindi cari amici se avete in mente un progetto bizzarro un progetto particolare un progetto di quelli come si suol dire da noi di quelli scattiati seguite le istruzioni che lascio nel link in descrizione e magari candidatevi chissà possibilmente sarà tra di voi il progetto nominato e magari potete realizzare questo sogno o questi progetti che a volte rimangono sempre nel cassetto per motivi economici soprattutto e anche perché non si hanno gli agganci in termini di visibilità per adesso vi saluto e mi raccomando se volete che il vostro progetto possa essere realizzabile provate